Volti, momenti di vita vissuta, paesaggi e scorci di città, catturati dagli occhi di quattro fotografi, due di professione e due per passione, che in questi anni hanno girato il mondo. Scatti esposti in tre location diverse nel centro storico di Iesi, nell'ambito della mostra per la fotografia aperta sabato 14 luglio. La mostra fotografica è aperta fino al 29 luglio. Noi abbiamo collaborato da diversi anni, addirittura dal 2009 abbiamo collaborato con l'amministrazione comunale, dal 2009 abbiamo portato Gianni Berengo Gardine e Fulvio Reuter. Nel 2010 invece abbiamo sempre, per la settimana della fotografia, abbiamo portato Giuliana Traverso e Adriana Argalia, poi nel 2011, lo scorso anno, Franco Fontana. Quest'anno invece portiamo Cesare Colombo, che è uno dei grandi autori della FIAF, Derrico Genovesi, che è l'autore dell'anno sempre della FIAF. Gli spazi espositivi ci abbiamo qui, nella sala grande del Palazzo dei Convegni abbiamo Cesare Colombo, nella galleria sempre del Palazzo dei Convegni abbiamo Enrico Genovesi. Poi abbiamo anche un nostro socio, che è un giovane emergente, che si chiama Volpini Simone, giù alla chiesa di San Bernardo. E poi c'è anche Marco Pozzi su San Nicolò, sponsorizzato dalla Rotary Club. Durante l'inaugurazione dell'evento, sabato 14 luglio, erano presenti Marco Pozzi, direttore del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Ancona, appassionato di fotografia, e l'oiesino Simone Volpini, che ha iniziato ad avvicinarsi alla fotografia, partecipando nel 2008 a un corso fotografico organizzato dal Circolo Culturale Massimo Farretti. Questi sono scatti fatti su un periodo di otto anni, andando in giro un po' per il mondo. L'inizio i viaggi erano viaggi di lavoro, e poi ho cominciato ad apprezzare i posti e le persone che conoscevo in giro per il mondo, e ho cominciato a dedicarmi a queste persone, a questi posti, visitandoli a livello privato e per fotografare la gente, che è quello che poi a me affascina di più di un posto. Insomma, io tendo ad identificare i posti con le persone che ci vivono. Nella vita faccio il cardiochirurgo pediatra, e la passione mia grossa è la fotografia, insomma. Però sempre abbinando un'affinità per la gente, perché nella fotografia poi finisco sempre per fotografare le persone. Questa è legata a un progetto del Rotary Club, a cui si sono associati diversi club di questa regione, e l'idea è quella di raccogliere fondi per sviluppare la cardiochirurgia pediatrica all'USAC in Zambia, dove già esiste un ospedale italiano dove è stata portata l'ortopedia, e adesso si voleva portare la cardiochirurgia pediatrica.